Benvenuti a questa riflessione di Enzo Bianchi su un tema che già nel titolo è abbastanza provocatorio. Siamo tutti inquilini di una sola terra. C'è chi ne sta cercando un'altra, sta andando in giro per l'universo, sperando di trovare un luogo in cui avere un piano B, come si dice. Ma finora l'unica che abbiamo è questa qua. Io proverò a dare rapidamente alcune riflessioni, alcuni elementi di contesto per introdurre la riflessione sapienziale di Enzo Bianchi. Perché possiamo apprezzare meglio il significato di questo titolo. Ognuno comincia dalla sua esperienza. Alle mie elementari, all'inizio degli anni Sessanta, la maestra ci spiegava che la popolazione mondiale era superiore ai due miliardi e mezzo di individui. Che a noi pareva una cifra enorme, gigantesca. Gli italiani erano 60 milioni, adesso siamo a 55, insomma sostanzialmente erano la stessa cifra. E rappresentavano quindi un quarantesimo della popolazione mondiale. Ogni 40 abitanti della Terra, uno era italiano. Era simile, diciamo, a noi. Lo dico perché il numero di Le Monde che era in Edicola ieri, ma c'è su tutti i giornali di questi giorni, ci dice che martedì prossimo diventeremo 8 miliardi sulla Terra. Che è una cifra molto più esorbitante di quella che ci aveva stupito all'elementari. Naturalmente è, diciamo, un calcolo ipotetico perché nessuno sa esattamente quando nasce il bambino che fa 8 miliardi. Ma più o meno siamo in questo ordine di grandezza. La sostanza è che in soli 60 anni gli inquilini di questa Terra, di questa unica Terra, sono diventati tre volte, sono più che triplicati. Erano 2 miliardi e mezzo, sono 8 miliardi. Gli italiani sono un centocinquantesimo di questa popolazione mondiale. Fuori dalla nostra piccola stanza il palazzo si è affollato moltissimo. Per ciascuno di noi, negli altri alloggi ci sono altre 150 persone, che al 60% sono asiatiche, anzi 3 miliardi sono solo indiani e cinesi. E quest'anno gli indiani diventeranno la popolazione più numerosa del mondo, superando i cinesi. persone che utilizzano le stesse strutture del palazzo che chiamiamo Terra, e quindi energia, acqua, gas, campi da coltivare, metalli da utilizzare, come sanno molto bene le persone che studiano in queste aule l'importanza dei metalli. Il condominio si è affollato senza che si modificasse in modo significativo l'hardware dei suoi servizi. Il sistema è rimasto sostanzialmente invariato. Noi a Torino sappiamo cosa vuol dire questo. Quando una città di mezzo milione di abitanti è diventata improvvisamente di un milione di abitanti, abbiamo dovuto ridisegnarla. Abbiamo dovuto fare in modo che arrivassero le linee degli autobus, che ci fossero, allora si diceva dei cinema, adesso c'è Netflix, e non sembra essere più un grosso problema. Insomma, che tutta l'organizzazione sociale si organizzasse per far fronte al nuovo mondo. Chi ridisegnerà la nuova Terra? Nell'Europa dell'Alto Medioevo furono i monaci a tirare le fila del mondo che si era andato un po' in pezzi, a immaginare una nuova identità e un nuovo ordine. Per questo noi siamo contenti oggi che sia Enzo Bianchi, un monaco moderno, a raccontarci come si può immaginare di rigovernare questo palazzo, sapendo che la religione può diventare un grande fattore di cambiamento, ma anche un grande carburante di disordine dentro il palazzo. Padre Enzo Bianchi sa che cosa è stato il tentativo di far parlare cattolici e ortodossi quando era Papa Giovanni Paolo II e conosce Kirill, che allora era il numero due della Chiesa ortodossa russa, con cui si tentò di fare questa. Bose era uno dei luoghi in cui si provavano a tirare i fili per evitare che il mondo si rompesse. Il mondo si è rotto, quel tentativo fallì e tra le conseguenze di questo fallimento, non possiamo imputare principalmente, ma certamente c'è anche il rischio di una guerra nucleare, che è la cosa di cui oggi si parla. sempre nella classe delle elementari, si diceva che la guerra nucleare non sarebbe potuta accadere perché sarebbe finito il mondo. Allora io chiudo dandovi alcune cifre dello studio di un'università americana che ipotizza cosa sarebbe il mondo con la guerra nucleare. Allora, nei primi 45 minuti, per dirvi, tra l'inizio di una partita di calcio e l'intervallo con lo stacco pubblicitario, morirebbero subito 34 milioni di persone e altri 55 resterebbero gravemente feriti, molti dei quali destinati a morire successivamente. Poi ci sarebbero gli effetti nel corso degli anni successivi, il follow-up, tutto quello che comporta una guerra nucleare, c'è da ipotizzare che una guerra nucleare farebbe sparire dalla Terra 200 milioni di persone. Diciamolo un po' cinicamente, gli abitanti di una sola stanza del nostro affollato palazzo, tutto il resto, gli altri 7 miliardi e 800 milioni, non vivrebbero bene ma resisterebbero, continuerebbero a vivere. Quando ho messo insieme questi dati, non avevo calcolato un effetto che è uscito proprio in questi giorni, e cioè che le esplosioni nucleari potrebbero modificare il clima in modo talmente radicale da determinare la morte per fame di miliardi di persone, qualcuno dice 5 miliardi di persone. 5 miliardi di persone sono un numero enorme. E in quel momento il mondo tornerebbe ad essere popolato dai 2 miliardi e mezzo che vi dicevo all'inizio. Il mondo sopravviverà anche all'orocausto nucleare. Il problema è naturalmente decidere A, come evitarlo, B, come sopravviverebbe a un disastro di questo genere. Grazie. Buonasera a tutti voi. Buonasera a tutti. Momento, peraltro, non solo di cambiamento, ma momento anche di crisi, nel vero senso del termine greco. crisi significa esattamente quel momento in cui si discerne la patologia, si può intravedere l'esito mortale o si può anche vedere una via di guarigione. Noi siamo esattamente dentro la crisi. è inutile dire come ormai da vent'anni questa crisi sia stata declinata in crisi finanziaria, economica, politica, sociale, giudiziaria, crisi del cristianesimo, crisi etica, crisi della cultura. Lo sappiamo tutti. Indubbiamente dobbiamo pigliar atto che questo è un momento segnato dalla crisi in una maniera di cui forse l'umanità ha mai potuto avere piena consapevolezza come oggi. siamo anche vicini alla possibilità di una guerra mondiale. dobbiamo dirlo, io non sono di natura un apocalittico e tuttavia conoscendo soprattutto la situazione di alcuni paesi, intendo soprattutto la Russia, l'Ucraina e tutto il mondo balcanico, vi dico che proprio a partire da queste terre che sono l'Europa non possiamo essere assolutamente assicurati di un domani senza guerra. e soprattutto i Balcani, ai quali in questo momento nessuno sembra prestare attenzione, ma ve ne renderete conto nei prossimi mesi, saranno davvero una fallia di nuovo che si aggiungerà alle altre che inducono davvero a un grande scontro, a un grande shock, ma non come quello previsto da Keppel tra cristianesimo e islam, così prevedeva, ve lo ricordate, Huntington e Keppel lo prevedevano alla fine degli anni 90, ma uno scontro tra un occidente e uno scontro tra un oriente con due vie molto diverse che si stanno accentuando sempre di più, questo diventa veramente possibile. A partire da questi dati, la mia riflessione, che è una riflessione sapienziale, vuole essere un appello alla responsabilità, un impegno di consapevolezza da parte di tutti a votare la situazione. E allora inizio questa mia relazione con una parola almeno breve, ma convinta di gratitudine al professor Juan de Martijn, non solo per l'invito che mi ha fatto ad esprimermi in questa biennale e per avermi annoverato nel comitato scientifico di questa intelligente e socialmente urgente iniziativa, ma soprattutto perché è apparso come sottotitolo questo coniugio tecnologia e umanità, che risuona come una consapevolezza sempre da affermare e da rinnovare, ma esprime anche un impegno. La tecnologia non deve volere l'uomo come il suo ubbidiente funzionario, ma vuole rispettare, come ricordava Heidegger, la centralità dell'uomo. La tecnica nasce con l'uomo, e in modo radicale umanità, perché l'uomo, seppur dotato di istinti come tutti gli animali, l'uomo li trascende, li vive come pulsioni e sopravvive nella misura in cui diventa tecnico. L'esistenza umana ha come condizione la tecnica e noi potremmo dire che quando l'antropoide ha realizzato dei gesti tecnici, allora è nata l'umanità. proprio nella tradizione culturale ebraico-cristiana la natura è consegnata, affidata all'uomo, affinché l'uomo la domini e non c'è contrapposizione tra tecnica e creatura, a differenza invece di tutta la tradizione culturale greca. la tecnologia è umanità che deve essere ottemperata nel cammino di umanizzazione. Proprio per queste convinzioni plaudo a questa iniziativa e giudico davvero il compito che si assume questa iniziativa come un compito intelligente, urgente, necessario per la nascita di un nuovo umanesimo nell'epoca della tecnologia. quanto alla mia relazione siamo coinquilini di un'unica terra vorrei semplicemente offrire per il dialogo e il confronto una lettura certamente ispirata dalla tradizione cristiana nella quale mi colloco senza la presunzione di offrire delle verità perché la verità ci precede tutti perché nessuno di noi può dire di possedere la verità e noi umani siamo sempre alla ricerca della verità che cede ogni nostra acquisizione. c'è un comandamento non espresso nelle tavole delle dieci parole di Mosè ma che si potrebbe dedurre da ognuna di esse ne potrebbe essere la sintesi o anche il preambolo alla loro osservanza da anni io formulo questo comandamento così amerai la terra come te stesso conosciamo il comandamento unico con cui Gesù ha sintetizzato tutta la legge averai il Signore Dio tuo con tutto il cuore tutta la tua vita le tue forze e il prossimo tuo come te stesso ma per amare Dio con tutto il cuore la vita e le forze e il prossimo come se stessi occorre anche amare la terra e amarla come se stessi perché perché la terra adamà in ebraico è la matrice da cui ogni terrestre Adam è stato tratto di terra noi siamo fatti alla terra noi torniamo non lo si dimentichi quando traduciamo il termine Adam e lo traduciamo col nome di una persona Adam non c'è senno in questa traduzione dovremmo tradurlo con terrestre o se volete terroso la terra non è solo polvere roccia sabbia ma è un organismo vivente e per questo nella Bibbia si parla della terra e di tutto ciò che essa contiene che essa racchiude che dobbiamo rispettare amare contemplare e soprattutto sentire solidale con noi i mari sono pieni di vita fino agli abissi e sulla terra c'è una coltre che chiamiamo humus la pelle del pianeta che brulica di vita ci sono esseri vegetali e animali tra cui gli umani significativamente termine imparentato con humus nella lingua latina questo l'organismo la madre terra che dobbiamo rispettare e quindi amare senza la terra noi non siamo e anche la nostra vita interiore non è strade alla terra e alla sua vita anzi è vita interiore vera e viva se ingloba tutte le co-creature con le quali siamo la terra in corsa dell'universo allora non si tratta per noi cristiani di fare della terra la Dea Gea un'entità organica indifferenziata una comunità biotica il cui valore sta solo nella sua totalità olistica ma di considerare un organismo di co-creature che ha il suo riferimento primario negli esseri umani non perché gli esseri umani sono al centro ma perché sono soggetti di ogni responsabilità etica questi non possono essere dei viventi destinati a dominare a sfruttare a determinare a loro piacimento la vita degli altri esseri viventi ma devono essere eticamente responsabili per loro sono gli umani che danno valore alla natura non il contrario ha scritto giustamente l'Ickferry sono loro che riflettono e pensano sul valore delle realtà naturali per questo non possono agire arbitrariamente sulla natura spadroneggiare sul mondo come vorrebbe un'errata interpretazione del mandato di Dio agli umani presente nel libro della Genesi riempite la terra e soggiogatela dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo ma attenzione questo comando deve essere capito non tanto nelle espressioni che ne risultano da una traduzione quella biblica ufficiale ma soprattutto andando al significato di questi verbi che non hanno nessuna portata di signoria di sfruttamento ma indicano piuttosto un rapporto di chi mette ordine un rapporto sponsale un rapporto di chi rende fecondo solo negli esseri umani si dà un'etica della terra coscientemente elaborata ed è in questa etica che è primario il comandamento ama la terra come te stesso purtroppo abbiamo tralasciato e non abbiamo sviluppato il Vangelo della terra che ci chiede di vivere il più possibile in sinfonia con il mondo e così non pensiamo che alla fine dei tempi secondo un'ottica gesuana ci sarà chiesto conto anche della nostra mancata responsabilità verso gli animali verso le piante verso l'ambiente verso la terra è vero nella pagina del Vangelo questo giudizio non è esplicito ma l'ascolto della buona notizia non deve essere letteralistico deve essere operazione di ascolto dello spirito delle parole e dei comandi espressi nell'ora del giudizio ciascuno di noi dovrà rispondere delle sofferenze inflitte alla natura permettetemi di dire vengo da un'osservazione banale dovrà render conto dall'aver lasciato morire un geranio di sete sul balcone dimenticandolo o non vedendo che aveva bisogno di acqua per vivere di non aver prestato attenzione a un animale ferito certo in questo richiamo all'avere cura dobbiamo sempre prima pensare agli umani ma immediatamente dopo occorre ricordarci di tutte le creature che abitano con noi questa terra che condividono con noi lo spazio che fanno parte della nostra vita che ci danno la vita si pensi soltanto all'acqua alle piante una terra devastata e desolata ci dà la morte ricordiamolo proprio in questi giorni abbiamo fatto memoria a Roma del centenario di quel capolavoro di Elliot la terra desolata Elliot era davvero un visionario poeta di un mondo dove il deserto avanza dove la terra non è rispettata e diventa una landa desolata in cui domina più la morte che non la vita è significativo che nel cristianesimo orientale che ha conservato una tradizione più attenta alla natura addirittura l'esemplarità va verso coloro che hanno vissuto una comunalità cosmica che chiede di amare la terra come se stessi in occidente questo come non è stato possibile e al massimo riusciamo a citare l'esempio di Francesco di Assisi del suo cantico delle creature in cui è riuscito a chiamare fratelli e sorelle le creature la natura viste come un dono da rispettare contemplare da amare oggi più che mai siamo diventati consapevoli del rapporto che ci lega la terra per millenni la terra come madre ci ha fornito riparo con i suoi alberi ci ha protetti con le sue piante ci ha nutriti con i suoi frutti e i suoi animali ci ha aiutati in mille modi dall'asilo che porta i pesi al cane che ci fa compagnia in una parola la nostra vita dipendeva soprattutto dalla terra ebbene oggi c'è stato un capovolgimento oggi è la terra che dipende da noi una terra verso la quale siamo diventati sovente nemici sfruttatori ingrati eppure essa continua a chiederci rispetto custodia protezione amore ho trovato una perla e voglio davvero comunicarvela nelle mie letture di testi medioevali ho trovato in un manoscritto del dodicesimo secolo di un monaco cistercense alano dalil in un testo che si chiama summa di arte e predicatoria ho trovato questo testo straordinario che dice nel dodicesimo secolo come già si poteva immaginare un rapporto diverso tra noi umani e la terra ebbene alano dalilla immagina che gli elementi della natura e la terra stessa si rivolgano all'uomo e gli dicono uomo ascolta cosa gridano contro di te gli elementi della natura cosa grida contro di te tua madre e la terra perché offendi tua madre perché mi violenti io ti ho partorito dalle mie viscere perché mi violenti con l'aracro per farmi rendere all'infinito non ti bastano le cose che ti do con le stagioni e che tu sai trarre da me con il tuo lavoro perché me le estorci con la violenza dodicesimo secolo e pensate quello che invece oggi noi riusciamo a fare a questa terra che addirittura avveleniamo rendiamo sempre più sterile incapace di essere la terra feconda che ci dà vita e vita in abbondanza ma in realtà ci avvelena si richiede dunque una vera metanoia un cambiamento di mentalità per cercare un nuovo etos della terra un'etica che affermi anzitutto la responsabilità umana di fronte all'ambiente terrestre e a tutti i viventi e che riesca a formare una coscienza ecologica vigilante se nei secoli passati in oriente e in occidente si dedicava tanta attenzione all'ascesi alla disciplina personale oggi sono urgenti un'attenzione una disciplina e un impegno a livello collettivo nell'uso delle risorse nel far crescere una comunione cosmica prima di essere un problema politico il rapporto tra l'uomo e la terra l'ecologia è un problema etico un problema di responsabilità e io potrei anche dire ai credenti un problema religioso che devono annoverare all'interno della loro coscienza morale per vivere un'etica della terra occorre in primo luogo che gli uomini e le donne si esercitino alla responsabilità Hans Jonas ha fornito un contributo decisivo a questo concetto un vero e proprio manifesto nel suo saggio il principio responsabilità un'etica per la civiltà tecnologica noi umani siamo posti di fronte a una realtà la terra che ci interpella e alla quale dobbiamo dare una risposta concreta per i credenti la terra è stata affidata da Dio al terrestre l'umano perché la coltivasse e la custodisse ne facesse un giardino dunque la responsabilità degli umani verso la terra è originale è la sua prima vocazione con l'apparire dell'umano la natura è stata legata alla cultura con un legame indissolubile l'autentico credente è colui che addirittura sa ascoltare e interpretare il gemito della creazione perché in essa c'è un'ardente attesa attesa di una risposta innanzitutto da parte degli umani ma poi una attesa di una risposta cosmica che sia in qualche misura salvezza trasfigurazione anche per il cosmo quando leggo in Paolo Apostolo l'ardente aspettativa della creazione che è protesa verso la rivelazione penso che la terra attenda di vedere noi umani quali veri custodi quali veri amanti di tutte le cose aspetta di poter vedere non più distanti e perfino nemici ma non comunicanti con lei tutti noi umani certamente per giungere a questa responsabilità risposta occorre un discernimento personale e comunitario un discernimento che sappia risponderare rispondere dare il giusto peso alle cose e quindi sappia esprimersi in comportamenti la responsabilità in particolare quella dei confronti della terra è sempre con responsabilità non fosse altro perché gli umani sono tra loro co-creature una comunità una società e poi perché solo un'azione comune può rispondere alla realtà globale della terra nella Bibbia lo sapete si parla quasi in modo ossessivo di terra promessa una terra che un popolo deve ricevere in dono e nello stesso tempo conquistare ma una terra che non sembra mai raggiunta che resta sempre una terra promessa ai miei occhi essa riguarda tutti in questo tempo e in ogni terra tutti noi abbiamo una terra promessa che ci sta davanti e come ogni promessa è una chiamata alla responsabilità perché ogni dono è una chiamata a una conquista la promessa che sta davanti a noi è quella di una terra abitabile coltivata e custodita una terra in cui regni la giustizia e di conseguenza sia possibile la pace una terra in cui le co-creature possano vivere in sinfonia visione missianica questa visione utopica poco importa perché questo desiderio ci abita tutti in profondità credenti e non credenti perché questa visione può creare un orizzonte comune questa speranza può essere un fondamento alla responsabilità quindi fondamento un'etica sempre ricercata e riformulata in vista della buona convivenza dell'umanizzazione cammino che non può escludere la responsabilità ecologica la responsabilità soprattutto negli ultimi due secoli è stata intesa in vista della libertà dell'uguaglianza della fraternità la triade dell'illuminismo occidentale ma deve essere intesa anche come responsabilità verso la terra il mondo è per l'umanità non l'umanità per il mondo c'è nella terra una dignità intrinseca tutte le creature devono contare sulla terra affinché dia loro condizioni di vita e di cibo e in questo quadro si inserisce la nostra responsabilità e noi non possiamo evadere se non scegliendo strade mortifere noi viviamo insieme per salvarci insieme oggi è in gioco la vita del pianeta oggi siamo in grado di distruggere la terra dobbiamo scegliere tra diversi comportamenti possibili nell'uso delle risorse e dell'energia nel determinare il consumo e la produzione nell'abitare lo spazio e condividerlo con gli altri esseri viventi nella ripartizione dei beni e delle risorse che sono destinate a tutta l'umanità non ad alcuni privilegiati e potremmo continuare nella declinazione di questa responsabilità legata alle nostre scelte siamo chiamati cioè a una responsabilità verso la qualità della convivenza resistenza alla degradazione causata dalla qualità dell'aria dell'acqua del cibo del clima e in vista di questa assunzione di responsabilità è necessario soprattutto un impegno per l'educazione delle nuove generazioni alle quali invece non trasmettiamo più nulla se non i nostri errori un'etica ecologica non può dimenticare la relazione neanche tra natura e politica e dunque non può esistere un'etica che non contenga anche la dimensione civile della polis proprio da questa mancanza ha tratto origine lo sapete la riflessione sulla sostenibilità la nozione di società sostenibile era già stata espressa dal consiglio ecumenico delle chiese a metà degli anni settanta del secolo scorso ma è stato il rapporto Brundtland elaborato nell'87 dalla commissione mondiale dell'ambiente a formularlo in termini che hanno portato all'assunzione del concetto da parte della comunità internazionale sostenibilità come capacità di soddisfare i bisogni della generazione presente ma senza pregiudicare analoghe possibilità per quelle future la sostenibilità vuole dunque che si tenga presente della solidarietà e della giustizia verso gli abitanti futuri del pianeta perché anch'essi possiedono dei diritti a questo proposito ha scritto Salvatore Settis che sta facendo da anni una battaglia estremamente risoluta proprio per la salvaguardia della natura e del paesaggio lo stato costituzionale di diritto deve diventare uno stato ambientale di diritto è ormai necessario un nuovo patto generazionale inteso come una nuova forma del contratto sociale in cui le generazioni future siano considerate già da oggi cittadini necessari se commettiamo crimini ambientali minacciamo la salute e la vita di quanti verranno dopo di noi che non troveranno la possibilità di veder rispettato il loro diritto alla salute la sostenibilità è una prospettiva etica significativa in cui è in gioco la dignità umana se volete l'espressione la fraternità verticale tra generazioni la giustizia della polis nella sua dinamica la sostenibilità è un intreccio tra le dimensioni della giustizia verso i futuri abitanti del pianeta e la custodia dei beni comuni affinché siano accessibili da parte di tutti la stessa terra produttrice di cibo acqua energia ama il prossimo tuo come te stesso significa amare decidendo di rendere presenti nel mio orizzonte quelli che verranno i futuri abitanti della terra una generazione che pensa solo a se stessa e non si pone il problema del futuro del pianeta è filautica e di conseguenza nel suo egoismo è incapace di pensare agli altri noi siamo quello che siamo anche grazie a ciò che abbiamo ricevuto dalle generazioni precedenti e la nostra azione è determinante per quelli che verranno dopo di noi in nome della sostenibilità occorre che ripensiamo lo sviluppo i consumi e anche senza parlare di decrescita sarà comunque necessario giungere a formulare una disciplina che consumi dei consumi in cui le virtù della sobrietà della frugalità siano sentite necessarie per una buona convivenza accettare il limite è semplicemente realismo e verità sulla nostra condizione di ospiti della terra ma è anche il preambolo necessario per distinguere tra i nostri bisogni quelli assoluti essenziali e quelli che sono creati artificialmente e ci inducono alla vertigine consumistica è vero oggi è arduo innestare queste preoccupazioni in una cultura incentrata solo sul presente una cultura che non vuole avere memoria del passato e non sa guardare al futuro occorre però che noi sappiamo davvero recuperare questo senso delle generazioni altrimenti la terra diventa inabitabile inabitabile per le generazioni inabitabili anche per noi e per i nostri figli questo mi sembra importante almeno da dire ci sarebbe tutto un capitolo a sto punto sul bene comune ma ne ho parlato in altri contesti in maniera diffusa e mi fermo qui grazie dell'ascolto grazie allora guardate adesso noi io farò una domanda a Enzo Bianchi anche se mi sembra che il discorso sia piuttosto esaustivo come si dice e inviterei dal pubblico a proporre una o due domande al massimo perché poi credo che ci facciano semplicemente uscire è molto importante questo intervento in un'aula che è uno dei pezzi che rappresenta uno dei luoghi più importanti della storia scientifica e tecnologica non solo italiana perché quella è una cultura che lo dicevamo prima di entrare qui diciamo sono due culture quella dell'umanesimo e quella scientifica che hanno avuto soprattutto in Italia perché si era più vicini alla chiesa cattolica che aveva un ruolo culturale molto più forte hanno avuto problemi nel corso dei secoli e l'idea che una ci fosse una etica che prevaleva sulla scienza è stato uno dei problemi che ha finito per divaricare questi due mondi io vorrei capire se le cose che sono successe negli ultimi anni adesso penso a un movimento che è quello dei ragazzi di Greta per capirci che non è un movimento religioso dei ragazzi di Greta c'è tutti coloro che si pongono a una certa diciamo sui vent'anni oggi che fanno manifestazioni per l'ambiente nel nostro mondo occidentale cioè quello che ha meno subito diciamo l'idea del del di un'informazione etica e religiosa della lettura della realtà se questi movimenti possono anche se non sono religiosi anche se non hanno un'ispirazione religiosa rappresentare una speranza oppure sono l'ultimo grido disperato di un mondo che sta morendo ma io credo che non si presti abbastanza attenzione al fatto che il mondo giovanile mostra una sensibilità verso questi temi ecologici e per i quali è capace anche ad accendere nuovamente delle lotte e delle battaglie è vero che è molto breve il periodo in cui si è manifestato questo interesse dei giovani e siccome gli ultimi vent'anni vent'anni soprattutto siamo abituati a queste ondate giovanili con un interesse che si spegne subito dopo abbiamo visto tanti movimenti accendersi pensate anche quante volte sembra che si accenda un movimento per la pace che mette radici poi si spegne subito alcune manifestazioni per la pace e poi il vuoto adesso in questi giorni ce n'è più di una ce n'è stato diverso che è ripreso per fortuna ma insomma tutto questo lascia fa sì che con probabilità molti non mettano molta fiducia anche in questi interessi delle nuove generazioni però per quel che io conosco i giovani che continuo a incontrare seppur nella mia vecchiaia io vedo che c'è una convinzione forte e sono disposti anche a dei sacrifici a un prezzo da pagare per questo discorso di un mutamento nei confronti dell'atteggiamento verso la natura una cosa che noto molto banale l'attenzione che loro pongono attenzione anche qui devo essere molto sincero non in maniera estesa ma qua e là macchia di leopardo che pongono ad esempio nei confronti di quelle che sono le regole che vengono date per i rifiuti differenziati cioè mentre la generazione mia non ne voleva sapere comunque non sembra sensibile a questo i giovani su questo sono estremamente più più direi attenti e arrivano a dire no sentono il problema quindi io spero che il movimento di Greta degli altri che in Italia notate bene non è molto attestato lo è molto di più in altri paesi europei come la Spaglia il Portogallo la Francia in Italia è ancora abbastanza direi spento ma che metta radici e che in qualche misura faccia sentire di più la loro voce certamente oggi mi sembra che la politica non si senta per ora molto disturbata da questa presenza giovanile che chiede un cambiamento di tutto quello che riguarda l'ecologia non si sente disturbata il che indica che c'è ancora una debolezza mentre invece all'estero basterebbe andare in Germania per renderci conto che sanno anche porre in termini estremamente esigenti e duri queste istanze io spero che i giovani che hanno un'altra sensibilità percorrano queste strade certamente almeno quando sentono i discorsi prestano attenzione sono sensibili e si interessano del tema di tutto quel che riguarda l'ecologia questo è vero per cui c'è una speranza c'è una speranza io vorrei che però anche le generazioni precedenti la mia e quelle subito dopo soprattutto perché la mia ormai è quella fascia che sulla soglia dice poco e può dire poco ma soprattutto quelli che possono ancora dire cioè la generazione successiva la mia di quelli che hanno 40-50 anni degli attuali padri e madri sapessero loro in questo momento dare davvero un passo all'educazione molto preciso su questi temi invece mi sembra che manchi ancora molto la trasmissione di questi valori io penso un tempo era più facile certamente anche se tutto era più circoscritto alla campagna ma pensate semplicemente un proverbio di questo genere ripetuto a noi gente di cultura contadina in Monferrato ripetuto ripetuto io me lo ricordo che proprio continuava tutto sempre dicevano sempre ricordati Dio perdona sempre gli uomini perdonano raramente la terra perdona mai proverbio semplice del Monferrato ma che ci metteva in guardia che la terra non perdona se la trattiamo male la terra non perdona mai Dio sempre gli uomini qualche volta ma se tratti male la terra non ti perdono e che instillava un timore della terra reverenziale stirava il timore verso la madre io credo che alla fin fine per noi non c'è nessun paganesimo a dire che la terra è madre la sentiamo madre nella nostra cultura contadina ma credo che sia impossibile ad altri dire che la terra è madre non la sentono più nessuno sa più che cos'è però non è solo una questione di cultura è questione che comunque la terra continua a darci frutti bisognerebbe iniziare al cibo alla terra come si mangia come si raccoglie e lì chiameremo Carlin Petrini una cosa molto semplice giovedì giornata di sole molto bella faccio una passeggiata a piedi lungo gli argini del Po io ho la grazia di abitare sotto superga 50 metri da quel meraviglioso argine del Po che è tutta una passeggiata di là fino alla gran madre sono bambini che passano con dei bastoni non è la prima volta e che a queste foglie che quest'anno tra l'altro non diventano mai gialle con sto clima impazzito avete notato tutto è ancora verde perché non va in letargo continua a far caldo e quindi neanche i tigli sono diventati gialli ancora tutte le foglie verde con i bastoni colpe a queste gratuito perché 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 non rispettare queste bellissime fronde pendenti che cadono verso il Po non le rispetti perché dargli delle bastonate e far cadere le foglie così perché che senso ha è una mancanza di rispetto io penso se qualcuno di voi è passato in Oriente e va in Giappone ma la natura è venerata il filo d'erba è venerato è chiaro che è un'altra cultura ma perché noi dobbiamo sempre tutto quello che ci pare farlo sui vegetali ma intanto un vegetale non sente chi te lo dice la pianta va rispettata come un animale come io rispetto un altro uomo o un'altra donna abbiamo una domanda il tempo di una domanda ma non c'è la domanda tutti indicano qualcun altro ecco prego c'è un microfono in sala mai lasciare il microfono ci dicevano in tv che poi dopo non torna no io no vabbè prendi questo mi piace sì domanda sì sì te la dico ok eccoci dicevo per quanto riguarda i bambini che non rispettano la natura prendono abbastonate gli alberi le piante credo che a quel punto il problema non siano i bambini in di per sé quanto la generazione dei genitori che dovrebbe educare in primis a rispettare la natura c'è un problema dei cinquantenni quarantenni trentenni che non educano i bambini che prendono abbastonate c'è un problema di generazione dei genitori i bambini sono bambini e ovviamente sono curiosi e agiscono di istinto non capiscono magari cosa hanno davanti tant'è che un bambino nasce sostanzialmente in uno stato in cui va e ascolta un po' quello che gli dice la sua testa che però non ha delle nozioni che magari crescendo iniziamo a dare per scontate come non dare bastonate a un albero quindi a questo punto se in paesi come l'Oriente i bambini fin da piccoli rispettano la natura no lo so ma non è che colpevolizzo i bambini dico solo che lì è una questione di educazione le faccio un esempio quando ero piccolo io credo che nessuno si scandalizzi ma nelle campagne c'era anche chi si compiaceva di perseguitare gli animali i gatti soprattutto ma veramente con crudeltà però imparavamo dalla famiglia a rispettare e dire non si fanno soffrire i gatti e non si fanno soffrire neanche quando dicevo prima vi faccio un esempio perché sono cose che a me davvero mi creano dolore e sofferenza chi vive con me lo sa io non vado molto in collera ma se mi volete vedere in collera potete vedermi se io vado una volta in una casa e vedo che qualcuno ha piantato una pianta di geranio e quella pianta di geranio sul balcone o in un angolo della scala o del corridoio sta seccando morendo di sete perché nessuno gli dà l'acqua vado in collera perché hai piantato perché e poi non gli dai l'acqua io mi immagino che nel giorno del giudizio quel geranio dirà avevo sete non mi hai dato da bere e gli farà sete nel giudizio perché non è semplicemente che abbiamo un debito verso gli umani ma bisogna avere rispetto anche delle piante ve lo dice uno che non è mica un fanatico certo coltivo un orto anche alla mia età coltivo un orto ho bisogno di un orto ho bisogno di coltivare ho rispetto per la terra però mica faccio il contadino mica viva di quello però credo che è una questione di comunione con quello che noi siamo con quello che noi siamo di qui questa terra io la amo io ho 80 anni fra qualche mese mi rincresce di andarmene ma mi rincresce di andarmene certamente per le amicizie ma mi rincresce anche di andarmene perché mi mancheranno mi mancherà il mio orto mi mancheranno i miei fili d'erba mi mancheranno il rosbarino sì ho chiesto mi raccomando sulla mia tomba salvia rosbarino e valgiorana mi raccomando non è mica quello che mi basti non basta grazie a Enzo Bianchi grazie a tutti voi e ci auguriamo di incontrarlo nuovamente alla prossima edizione di Biennale Tecnologia che lui contribuirà ad organizzare grazie a tutti voi davvero di tutto grazie a tutti grazie a tutti